Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi propongo il budino furbo al cioccolato con due ingredienti e pronto in pochissimo tempo. Una ricetta davvero super veloce. Ragazzi, senza colla di pesce, senza addensanti, senza cottura a bagnomaria, senza latticini. Un budino davvero super sano, leggero, ideale per i bambini se non volete fare consumare troppo zucchero ai bambini, ma anche per noi adulti, soprattutto se siamo a dieta e vogliamo toglierci uno sfizio. Mi raccomando, provatelo perché è davvero buonissimo. Per realizzare il mio budino furbo al cioccolato utilizzo due banane semi mature. Mi raccomando, non utilizzate le banane verdi perché il vostro budino non sarà buono. Dovete utilizzare banane semi mature o comunque mature. Non troppo scure ovviamente, troppo mature no. Allora, andiamo a tagliare le nostre banane all'interno di un tritatutto e poi tritiamo benissimo il nostro composto. Poi vado a sciogliere a bagnomaria 50 grammi di cioccolato fondente, senza aggiungere panna, senza aggiungere burro, olio, niente. Dovete sciogliere il vostro cioccolato o al microonde o a bagnomaria e poi lo inserite all'interno del vostro tritatutto. E tritate bene il tutto, quindi amalgamate benissimo il vostro cioccolato con le banane. Un budino al cioccolato, un dolce semplice e amato, soprattutto dai bambini, con ingredienti semplici. Quindi quando porterete a tavola i vostri bicchieri con il budino al cioccolato, oppure potete utilizzare le coppette, gli stampini in silicone, vedrete sicuramente sorridere a tutti perché è davvero buonissimo. Se volete a questo punto, assaggiate il vostro budino. Se non vi piace troppo il sapore della banana, potete aggiungere zucchero a velo a vostro piacimento. Quindi potete dolcificare il vostro budino. Fate un po' voi e poi tritate ovviamente lo zucchero con la banane e il cioccolato fondente. Quindi personalizzate il vostro budino. A me piace così naturale, solo banane e cioccolato, però se volete si può aggiungere tranquillamente zucchero. Ho versato il mio composto all'interno di due bicchieri, ma come ho detto prima potete utilizzare delle coppette, oppure dei stampi in silicone, e conservate in frigo per almeno tre ore. Io solitamente lo conservo per una notte, li preparo sempre la sera prima, per consumarli il giorno dopo. E voilà, il nostro budino al cioccolato furbo con due ingredienti è pronto. Facile, veloce, ma soprattutto leggero. Che dirvi ragazzi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. E tantissime altre videoricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete potete seguirmi su Facebook, su Instagram oppure su TikTok come Ricette Golose di Cartesia. Se provate questa ricetta lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente questa è una ricetta antichissima che esiste veramente da tantissimo tempo. Però ho voluto condividere con voi questa idea davvero buonissima soprattutto per i vostri bambini. Un modo geniale per far consumare la frutta.